Buonasera a tutti, signora Ministra, benvenuta all'Università di Torino. Il suo Ministero, insieme all'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca, in questa settimana ha prodotto i risultati della valutazione della qualità della ricerca sulla terza missione. Come giornalisti amano dire, il Ministero ha dato le pagelle agli Ateneo, pagelle che hanno avuto un esito molto soddisfacente per il nostro Ateneo. E non mi piace qui parlare di eccellenze perché l'eccellenza andrebbe declinata come termine relativamente a picchi, forse picchi isolati, mentre qui noi abbiamo un Ateneo che ha un'alta, molto alta qualità della ricerca, praticamente tutti i nostri settori di sci. Forse è ancora più significativo il fatto che la terza missione, contenitore di tutto quello che non è didattica e ricerca, le missioni pure dell'Università, ci veda al primo posto in Italia. Ma non è su questo che posso creare il mio saluto, signora Ministra, è su un altro tema. Parlare di lavoro, lei ha scelto questo tema, significa non fare accademia, significa parlare a una platea che in gran parte è rappresentata da giovani colleghi che hanno un lavoro precario, studenti di scuola superiore e di università che hanno un'aspettativa di lavoro, in particolare in questa zona del Paese che è quella più segnata dall'alto tasso di disoccupazione in tutto il Nord, significa parlare di questioni e di politiche molto concrete. In questi ultimi anni le università pubbliche sono state in un certo modo costrette a giustificare la loro utilità, la loro utilità, se uso il termine latino non a caso. Credo che tutto il sistema dell'università pubblica sia stato in grado di dimostrare, di fronte a una richiesta che era decisamente nuova anche per Atenei con storie secolari, qual è la nostra utilità. E gran parte di questo significato è stato giocato proprio sulla terza missione. Giustificare la propria utilità significa non soltanto dimostrare e portare al territorio le proprie competenze, la qualità della didattica della ricerca, ma significa, e questa è la terza missione, collaborare, lavorare insieme alle istituzioni del territorio, lavorare insieme alla scuola nell'orientamento in ingresso, lavorare insieme al sistema delle imprese nell'orientamento in uscita. in un territorio, lo dicevo prima, è stato colpito dalla crisi economica con una perdita di capacità produttiva superiore al 25%, e questo significa chiaramente perdita di posti di lavoro. Parlare di utilità, di utilità, sparlare di terza missione, significa anche sapere dare delle risposte in tempi che non sono i tempi dell'Accademia, ma sono dei tempi immediati. Significa avere e assumersi una maggiore responsabilità nell'orientamento in ingresso e in uscita, come dicevo prima, ma in un contesto di risorse depauperate. Il lavoro che manca, è stato detto poco fa in apertura, può trovare una soluzione con una maggior qualificazione delle capacità professionali. Se vi sarà e vogliamo che ci sia di nuovo lavoro nel nostro Paese, sappiamo che dovrà essere un lavoro di qualità, perché è lì che si gioca la capacità di creare nuova ricchezza e nuovo lavoro. E questo chiaramente coinvolge la responsabilità degli Atenei nella formazione universitaria. In un Paese che, come sappiamo, continua a essere al penultimo posto in Europa, non ci stanchiamo di ripeterlo, nel rapporto tra numero dei laureati e popolazione. Non è un lavoro semplice, però, rispondere a questo bisogno di maggior qualificazione nella comprensione del fatto che il nuovo lavoro sarà un lavoro di qualità, se, nel contempo, i nostri Atenei devono fare i conti con requisiti di docenza che sono sempre più rigidi e severi e rende complicato ulteriormente il processo di apertura dei corsi e di eliminazione dei numeri programmati, perché se vogliamo avere più laureati dovremmo, innanzitutto, immatricolarne di più. In un contesto di regole, appunto, in cui i requisiti di docenza sono sempre più severi e rigidi e la risposta che alcuni Atenei sono trovati costretti a dare è quella della chiusura degli accessi. In altri termini, le università ci sono trovate in questi anni a essere una sorta di arena di tensioni sociali e il tema del lavoro entra qui dentro pesantemente in un panorama normativo che è stato più volte definito come imprevedibile e contraddittorio. È stato detto poco fa che i giovani di oggi, i giovanissimi, ma anche coloro che sono ancora lontani dall'iscrizione all'università entreranno in un processo formativo che è disegnato con un occhio al passato, con una penna del passato e saranno richiesti di avere delle competenze che oggi sono quasi imprevedibili. E questo apre un ulteriore tema che accenno qui soltanto e che affido alla volontà del Ministro di considerarlo è il problema delle nostre tabelle di insegnamento. I corsi universitari sono basati su progetti formativi che sono datati e sono ancora rimasti al ventesimo se non al decennio secolo e non tengono in conto la esigenza di nuove qualificazioni e di quanto l'innovazione tecnologica abbia modificato i profili professionali. È necessario, Signora Ministra, mettere mano alle tabelle di insegnamento dei corsi che sono troppo datati. La questione del lavoro quindi è una questione di responsabilità degli Atenei nel comprendere insieme alla società civile, alle imprese, alla scuola, alle istituzioni locali quali strategie e quali politiche disegnare insieme per riportare il lavoro nel territorio. Manca una questione di lavoro all'interno dell'università e c'è una responsabilità che riguarda la gestione delle notizie pubbliche e di tutti noi rettori di università pubbliche perché il lavoro all'interno dell'università diventi una parte delle politiche del Ministero. Serve una dotazione straordinaria di posizioni di ricercatore per consentire di riconoscere che il lavoro per la ricerca che viene svolto nelle nostre Atenei ha, come abbiamo avuto, una prospettiva fondata sul merito e sulla qualità, ma una prospettiva di permanenza. Concludo con la citazione di un bel libro che è uscito veramente pochi giorni fa Università Futura di Juan Carlos De Martino un collega di Torino il quale scrive I cambiamenti di questi ultimi anni non solo hanno spinto l'università a concentrarsi sugli aspetti economici della sua missione ma hanno anche cercato di modificare la natura stessa dell'istituzione spengendolo ad abbandonare il suo etos di collaborazione e di amore disinteressato per la conoscenza. Il risultato è una università che pur mantenendo il suo impianto storico ha sostanzialmente perso di vista aspetti importanti della sua missione in particolare quelli riguardanti gli studenti in quanto persone sapere nella sua accessione più vasta e il suo ruolo nella società democratica questo l'ha impoverita e significativa è la copertina di retro l'università deve formare non solo laboratori ma anche e soprattutto cittadini in questa tensione continua fra gli Atenei e il sistema pubblico italiano a competere per poche risorse rischiamo di dimenticare che l'università è nata per formare e distribuire conoscenze in rete io credo che il compito dei grandi Atenei qual è quello che ho l'onore di rappresentare qui signora Ministra sia anche accettando che il confronto competitivo è utile per la qualità produrre progetti di ricerca a rete dove rete significa università grandi medie piccole del sud e del nord la stagione della competitività e della competizione per poche risorse che ha chiaramente trasferito risorse al nord a svantaggio del sud credo debba terminarsi in altre parole e ho concluso gli articoli 33 e 34 della Costituzione che sono così sovente richiamati in relazione alla libertà dell'insegnamento la libertà della ricerca e al diritto allo studio non possono prescindere da essere letti insieme ai due articoli fondativi del nostro stare insieme in questa nostra Repubblica l'articolo 1 taglia fondata sul lavoro come Repubblica Democratica e l'articolo 4 che proprio di diritto al lavoro parla grazie grazie